Se un pittore ti dicesse che gli rimangono tre anni di vita, gli chiederesti di smettere di dipingere? Gli chiederesti a Michelangelo di smettere di scolpire il suo David? No, chiaro che no. Gli avresti detto, forza Michelangelo, continua a fare quello che ti appassiona. Con questa citazione tratta dalla mitica serie tv La Casa di Carta, ci colleghiamo alle tre pietà di Michelangelo, nella forma dei loro calchi in gesso. È stato possibile ammirarle a Milano, dove sono state riunite in uno spettacolare ed emozionante allestimento, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Tre lunghi teli, dispiegati per tutta l'altezza della sala, e vi posso assicurare dal grande impatto visivo, hanno fatto da sfondo alle pietà, sottolineando il forte valore estetico e ovviamente il senso religioso, evocato dal noto artista in tre diverse fasi della sua vita. Ciao alla prossima e viva la vita!